Il rapporto straordinario tra Montini e Milano è un rapporto con la città, quanto Montini è stato condizionato, influenzato dalla realtà milanese, questa grande città industriale che però sapeva unire anche una grande tradizione cattolica. E queste due cose, questi due poli, questi due aspetti hanno segnato la proposta pastorale montignana. Montini in fondo veniva da anni di lavoro in curia, un lavoro diplomatico, un lavoro sicuramente anche attento a tanti aspetti della vita della Chiesa, però sicuramente si è misurato con una concretezza di tanti problemi che in qualche modo lo hanno spinto a riflettere di più sul futuro della Chiesa. Qual è secondo lei il dato qualificante del rapporto fra Giovanni Battista Montini e la metropoli che stava esplodendo con il boom? Diciamo che è stato un incontro, direi fra due personalità, la grande personalità di Montini ma anche la grande personalità di Milano. E Montini prende le misure di Milano, vuol fare l'Arcivescovo di Milano ma Milano è più grande di quello che lui pensa, almeno all'inizio. E dunque c'è un confronto molto interessante, un confronto che fa crescere Montini. Montini arriva a Milano tutto sommato con una scarsa esperienza pastorale, con una scarsa visione del mondo, anche se ce l'ha grande ma da un punto di vista romano in un certo senso, non è la realtà di una modernità che si sta sviluppando, di cui Milano è espressione. E dunque Montini andrà via da Milano molto diverso da come è entrato, quindi è un rapporto interessante, un rapporto dialettico tra queste due personalità. Un rapporto fecondissimo quello che legò Montini a Milano, la chiamò la sua palestra pastorale nel momento in cui era stato elevato al soglio pontificio. Un rapporto che come diocesi abbiamo il compito di riprendere e rileggere perché Montini fu più profetico e lo fu più di quello che spesso abbiamo immaginato. Lo fu, come racconta bene il libro, ad esempio da urbanista, col suo progetto di chiese davvero aiuta la città a ridisegnarsi e immaginare un modello di periferia diverso, più umanizzato. Lo fu perché effettivamente fu il primo arcivescovo a leggere la sfida culturale che il cambiamento d'epoca già iniziato allora accendeva e noi viviamo ancora dentro quella sfida culturale che lui ci ha consegnato. Lo fu perché effettivamente portò un'apertura a questa diocesi, un'apertura mondiale che da lì in poi è continuata. Il vantaggio di questo libro è che ci aiuta a aprire una pagina nuova nel senso che, come dice bene nell'introduzione in cui spiega le chiavi ermeneutiche della ricerca, si cerca semplicemente di non fare una biografia di Montini ma di collocare Montini all'interno del contesto complesso sia ecclesiale ma anche culturale, sociale e civile per cui nesce una figura di Montini davvero reale e capace di mettere in luce la sua grandezza e diciamo noi cristiani e la sua santità. Tu, Marco Garzonio, hai conosciuto Montini? L'ho conosciuto e negli anni migliori che un uomo può vivere, cioè l'università, la formazione, le prime esperienze professionali. La mia università e l'episcopato di Montini coincidono, quindi è un regalo che la vita mi ha fatto, anche perché attorno a Montini c'è stata una generazione, la mia e quella dei miei maestri, penso uno su tutti i lazzati, e dei miei fratelli, penso a persone come Valerio Nida e come tutti gli amici che lavorarono attorno all'esperienza di relazioni sociali, dell'Istituto Salambrosiano, del Segretariato Giocesano di Attività Sociale, alla Corsia dei Servi, padre Davide Turoldo, padre Cammino dei Piazzi eccetera. Quindi quegli anni lì, fino agli anni 50, inizi agli anni 60, quando Montini al 63 partì, sono gli anni miei, e gli anni in cui tutti speravamo, contavamo e lavoravamo per un nuovo mondo. Qual è il tratto distintivo caratteriale che ti è rimasto più impresso? La problematicità, cioè da una parte l'ampiezza di vedute, di indicazioni, di sollecitazioni, nello stesso tempo la prudenza, che può essere una virtù cristiana o può essere invece un timore di agire, e in Montini delle due, sono presenti entrambe le caratteristiche, però in Montini direi che la prudenza forse è stata quella che ha prevalso.